Buona a tutti ragazzi, con la vostra griglia, oggi ragazzi, siamo qui L'ho riconosciuta Allora ragazzi, oggi è rovesciata challenge Ma qui c'è anche pallone Ok, telecamera, telecamera, me non vieni qua No, dove? Questo è il migliorno, telecamera, me nel 2019 Parla, però parli o no? Di parlare? Allora ragazzi Ma posso entrare in acqua per l'acqua? Capina, a quella? Allora Eh no, no, vai Inizio io Ok, io te lo lancio Però non mi butta a terra No, ma che scrivi? Ma non era una rovesciata Ragazzi Ragazzi Era una rovesciata Ragazzi No, dai Ora ho un set Ma ti hai buttato quindi un punto? Se ci si butta tre punti Ma quando lo devo fare, scusa? Eh no, lo so Ragazzi Ragazzi Guarda Basta 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 Cacchio di rovesciato Basta Basta Ciacciata Andiamo Diretta Sì Andiamo questo è l'ultimo questo è l'ultimo ora lui e poi io ok ragazzi mezza rovesciata però vale ora toccherà a me e concludiamo il video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti